Oh, da quanto tempo! Oh no... Anch'io sono contento di vederti. Hai finalmente deciso di smetterla, di cattrarti le palle e di fare qualcosa? Bene, inizierei subito a durare la barba. Perché scusa? Perché lo sai benissimo che se la fanno crescere solo i pelati, i metallari e che si cerca da durarla. Mi sembra ovvio che tu faccia parte della terza categoria, quindi cosa aspetti? Grazie per non avermi trovato il pelato. Lo apprezzo. Sono te del futuro, dopo tutto. So come ti senti. Non potrei essere un futuro un po' più in là. In fondo che a te ci cambiamo solo di un paio d'ora. Ma senti sempre, oh! Mi cancano sempre se non giocassi al Giappone perché non ho tanti iscritti. La lista barba a zero! Va bene, va bene. Ho già inventato uno stile, guarda. L'ho chiamato io sono inerottabile. Cosa ne pensi? Che ti ripeto che sono te del futuro, so già cosa vuoi fare. E non lasciarti nemmeno quei baffetti. Ti voglio liscio come il culetto di tua nipote Liam. Ho capito, ho capito. Così va bene? Perfetto. Ciao. Aspetta, aspetta. Vedi come qualcosa di così semplice come il prendersi cura della propria estetica radendosi la barba possa portare a qualcosa di emotivamente positivo? Perché non provi a fare qualcosa di altrettanto semplice ma per il tuo te interiore? Non posso prometterti nulla. Che barba del cazzo quella di Thanos.